Ciao, bentrovato e bentornato nel nostro canale Metodo MCA, mente, cuore, anima oppure mindset, consapevolezza, abbondanza. Se non mi conosce ancora io mi chiamo Ursula Smolinska e sono ideatrice del Metodo MCA, il metodo più veloce e più efficace per realizzare i nostri desideri, per scoprire i nostri talenti, metterli al servizio degli altri e vivere di questo servizio in modo felice, libero e in piena abbondanza economica. Oggi parliamo della tecnica chiamata SATS, è una delle tecniche più efficaci di Neville Goddard, è una tecnica di manifestazione che utilizziamo nel nostro nuovo contest, il contest che ho lanciato nell'ultimo video. Il contest si svolge nel gruppo Facebook Metodo MCA, se ancora non stai partecipando ti invito di iscriverti al gruppo e di partecipare al contest, il contest che durerà 12 settimane. In queste settimane impareremo a utilizzare il potere della mente, impareremo a manifestare ciò che desideriamo, o meglio, attraverso dei piccoli esercizi, a volte bizzarri, cominci a materializzare ciò che hai impresso nella tua mente e in queste 12 settimane pian piano imparerai a creare le cose sempre più improbabili e in questo modo avrai sempre più fiducia nella tua forza di manifestare. L'obiettivo del contest è farti credere che la mente crea, che tutto ciò che osservi nella tua vita ad un livello di consapevolezza hai creato tu e nella maggior parte delle volte noi creiamo in modo inconsapevole e grazie a questo contest, grazie agli esercizi, alle sfide che faremo per 12 settimane, tu potrai vedere pian piano che in realtà è così, in realtà la mente crea, basta sapere cosa, basta decidere cosa e sapere come e adesso noi utilizziamo appunto la tecnica SADS, la tecnica più, forse una delle più efficaci di Neville Goddard. SADS è un'abbreviazione che sta per state akin to sleep perché viene utilizzata prima di addormentarsi. Neville Goddard insegnava la legge di assunzione e la legge di assunzione afferma che tutto ciò che crediamo vero si manifesterà nelle nostre vite, ma non tutto ciò che crediamo vero a livello razionale, ma tutto ciò che è impresso nella nostra mente profonda, la nostra mente subconscia che è impressionabile, che si può impregnare perché è programmabile, può essere riprogrammata e indirizzata verso ciò che vogliamo realizzare. Il principio, quello più importante, più forte è quello decisivo, è imprimere nella mente subconscia l'effetto che anticipa la causa, quindi imprimere nella mente che stiamo già vivendo, stiamo già percependo ciò che vogliamo realizzare. Quindi convincere la nostra mente subconscia che non è vero ciò che vede, ma è vero ciò che immaginiamo e ciò che viviamo all'interno del nostro corpo, perché la mente subconscia non riconosce ciò che è vero da ciò che è vivamente immaginato, vivamente visualizzato. La tecnica SATS viene utilizzata la sera quando andiamo a dormire. Prima di addormentarsi noi normalmente entriamo in uno stato di dormivelia, che stiamo quasi, che il corpo si è rilassato, la mente ha rallentato la sua attività, quindi la mente si è rilassata, quindi abbassa le sue frequenze, è appunto rilassata e in questo stato noi visualizziamo ciò che vogliamo realizzare. visualizzare. Visualizziamo il nostro obiettivo già compiuto. Immaginare, visualizzare e immaginare, quindi vedere con gli occhi chiusi, con i particolari, con i dettagli, ciò che vuoi ottenere, ciò che vuoi realizzare. Noi nella prima sfida, quindi nella sfida della prima settimana, abbiamo visualizzato una scala. Abbiamo visualizzato di salire su una scala, quindi vediamo questa scena come se fossimo noi protagonisti, quindi vediamo le mani che magari si tengono alla ringhiera o ai pioli della scala. Vediamo i piedi che stanno salendo, se guardiamo giù, forse sentiamo i suoni, i suoni dei passi o i suoni dell'ambiente, ma la cosa più importante è il sentimento, perché il sentire è il segreto, diceva Neville, il segreto è l'emozione. Quindi sentiamo, cerchiamo di riprodurre in questa visualizzazione, mentre stiamo sdraiati nel letto, tutte le sensazioni che possono essere associate con l'azione di salire sulla scala, su una scala. Ripetiamo questa immagine, questa scenetta più e più volte nella mente per tre sere di seguito, tre o cinque sere di seguito. Dopodiché facciamo una breve pausa, che può essere sempre di tre o cinque giorni, e nell'arco della giornata noi possiamo anche ripetersi in maniera tranquilla, non salirò su nessuna scala, oppure possiamo mettere un post-it con la scritta non salirò su nessuna scala. Perché questo? Perché noi abbiamo impresso immagine di noi stessi che saliamo sulla scala, l'abbiamo impressa nella mente subconscia, e poi durante il giorno diciamo non saliremo su nessuna scala, perché è implicito che noi su questa scala siamo già saliti. Così stiamo convincendo il nostro subconscio, convincendo tra le virgolette, che il nostro obiettivo è stato già raggiunto. Infatti il contest abbiamo cominciato lunedì scorso, quindi sono passate sei giorni, e mi sono già arrivate le vostre prime testimonianze con le scale che spuntavano non si sa da dove, che erano esattamente le stesse scale che avete immaginato. Il punto è quindi di immaginare vividamente che saliamo su una scala per tre sere, tre o cinque sere, questo devi vedere tu come ti senti, perché ad un certo punto arrivi a una sensazione che è inutile visualizzare, perché lo senti che è normale che sali su una scala è scontato. Quindi visualizzi per tre o cinque giorni, dopodiché stacchi e non ci pensi più, e poi vedrai come si comporta l'energia, come si comporta l'universo. Vedrai che in una maniera o nell'altra ti troverai a salire sulla scala che, esattamente sulla scala che hai immaginato, e magari non te ne accorgi come è successo a questa persona che mi ha scritto sono salita sulla scala e mi sono accorta giorno dopo che sono salita sulla scala. E' lo stesso successo a me quando ho fatto questo esercizio. Quindi ricapitoliamo, ricapitoliamo la tecnica SADS. Si applica prima di addormentarsi. Per qualche minuto ripeti in loop la tua breve scena che vuoi realizzare. Adesso la prima sfida era salire sulla scala, adesso domani ci sarà un'altra diretta dove faremo la seconda sfida. E' la diretta sul gruppo Facebook Metodo MCA. Quindi immagini questa scena per qualche minuto con tutti i particolari, con tutti i dettagli e soprattutto creando emozioni che ti legano a questa situazione. Quindi nel nostro contest immaginarai e sentirai di salire su una scala. Dopodiché per tre giorni lo ripeti. Durante il giorno puoi ripetere non salirò su nessuna scala. dopo fai pausa di tre giorni, dopodiché puoi riprendere. E nel frattempo iscriviti al gruppo se ancora non sei iscritto al gruppo e commenta sotto un post che così potrai partecipare all'estrazione dei premi finale. Scrivimi nei commenti se hai qualche perplessità, se qualcosa non è stato chiaro. scrivimi se per te ha funzionato. Grazie e al prossimo video.